Noi genitori oggi non sappiamo ancora perché c'è stata portata via la figlia, gli stessi periti hanno detto che siamo persone per bene, abbiamo delle caratteristiche di personalità che non vanno bene per l'educazione della bambina, immagini lei in Italia quanti milioni di persone ci sono che hanno delle caratteristiche di personalità e hanno i propri figli, quel poco tempo che l'abbiamo tenuta con noi è stata trovata in perfette condizioni psicofisiche quindi vuol dire che noi siamo in grado di capire le necessità e le esigenze di un neonato. Voi non sapete se sta con un'altra famiglia, se sta in un istituto? No, non sappiamo perché il tribunale ce lo vieta, la bambina deve sapere queste cose qui, le deve sapere, noi le abbiamo sempre volute e le abbiamo sempre cercate.